Turbolenza in decolo Sì, avvicinati bene Eccolo lì, eccolo qua, eccolo qua Non ci sia un prezzo 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 Aranciata Anche loro sostenere Anche la mia Anche la mia Si vede la stessa Si vede la stessa Anche la mia Si vede la stessa Anche la mia Si vede la stessa Si Non lo so Che bello Ma piccolo l'hai andata dentro L'hai andata dentro L'hai andata dentro Ma la mano è scesa Io l'ho fatto Ok Finiscila così poi Non è finita Non la far pelare i pali Si sembra che Con te Con te me la devo prendere Vero? Per le cene organizzate Solo fra i mariti Le mogli a casa Guardare i figli Tu ci sei andata? Si Ma c'erano altre? Eh si Il giovedì è un problema Ho detto Cavolo non ci pensano proprio le povere mogli Eh no perché Avevamo un maggior numero di persone che era libera il giovedì La riserva di simone La riserva di simone Mario appena riesci a prendere qualcosina Vieni un po' di qua che c'è Carlo che mi sembra che sulla destra Prenda di più eh Il regista dei voli Si Da risalire un po' qua 21 21 21 21 Si è arrivata a 22 Nord Stranissimi Vieni Guardiamo qua voi No Ma alcuni sono Di casa Vieni Sì Vieni Sì Ciao Eh guardi Husibuz Mi hanno ritlato il vento, ecco perchè C'è l'antenna? Lo Sì Abbracatevi a partire se volete partire qui anche il pentia che fa non guarda un po' ci scomo avanza pensi che se ci fosse vento forte si non penso che avrebbe e non riesco da asservirti Giulio a te parole questi sono qua poi praticamente sono lì sono di cazzi miei sono qui sono qui sono lì sì ma non ci sentono a noi eh sì è perché devo andare a prendere un gioco che mi ha indicato che mi aveva dato l'altra sera ragionismo capito charlie come va ho preso una bolla di schivo diciamo così e ha fatto un berichino tutto leva come va il vento su? bello preso si dai parla un po charlie si così ti sento a malapena ma ti ascolto ciao daniela ma riesci a sentirlo te questo qua no no sento dell'altra gente che diciamo usi vhf come telefono e il cazzo non sto qua che sei arrivato adesso che si chiama giulio non quelli ufficiacci sono quelli il monte ce n'è pieno quant'è adesso 27 27 in questo momento in cima sud però digli che le nuvole si vedono andare verso il bar 29 ma non che palle sti qua spostate via 555 grazie negativo negativo ti sto sbagliando lo so che c'è un po di movimento qua va meglio spostarsi se no non mi sento eh tutto è uguale la riconferma è sulla buongiorno guarda va chi è quello che è chi è quello che è che svolazza primo piano di Mario che ora sparisce dietro venturi qua ripeto poi ho ripeto ecco un'altra che compare dietro ripeto guarda guarda che bella figura che c'è vicino a Carlo praticamente è un identikit esatto cos'era? niente una figura centrata è sul filo è sul filo è sul filo andare di là quanto è che vuole? 13 14 qua quando non è in raffica su raffica andiamo a 21 22 ce la giochiamo? ce la giochiamo? ce la giochiamo? ah no ma le cari manca non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma no ho visto che non vedo anche adesso è diminuito adesso il vento infatti anche qua qua è 8 adesso non darsi che fosse anche qualche nuvola che aspirava basta resistere guarda Carlo come ha risalito devi rispondere oui ma no noi lo vediamo eh? è capace da solo dai Aldo ok dai Sì, Angelo, ciao. È forte il vento, eh? Sì. Ma lì, qua, sì. Sì, io non c'ho il fisico. Beh, io non ho bisogno, ma io non ho bisogno. A me risulta tremendo. Beh, non lo so. Bene così, Mario. Aspetta qui. Ok, vedo con patata. Va bene, ok, ok. Ormai, ormai, sì, io mi so come un misto da volare che avesse detto le 3.4. Ma in casa della ragazza, non c'è. Ora è forte però. Sì, va bene, dai, ti vediamo l'altro. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti C'è una scatola di cartone La raffica che arriva La raffica che arriva